Senti, ieri c'eri alla mia presentazione. Sì, sì. Certo. Io non credo che hanno fatto una grande presentazione. Ero nervoso. No. È vero, eh. Tu, tra l'altro, eri seduto vicino al presidente. Sì. E lui? Che impressione ha avuto. Su. Mi ha detto qualche cosa in specifico. Facciamo stare. No, no, dai, hai detto qualche cosa in specifico. Ma... Lo vuoi sapere? Eh sì. Mai più. Mai più? Ha detto mai più? Ma stai scherzando? No. Perché dovrei dire così? Non so. Perché? Vabbè, magari vuol dire che non mi fanno fare più le presentazioni. Meglio così. Speriamo. Speriamo. Speriamo solo questo. Eh sì, ma mi dicensiano per una presentazione. Beh. Guarda che... Il rischio ci sarebbe, eh. Addirittura. Ma tu sai qualche cosa? Lasciamo stare. Lasciamo stare. No, 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 no. Queste cose. Se sai qualche cosa... Lasciamo stare. E' meglio non parlarne proprio. E' un periodo particolare. No, guardiamolo. Almeno mi regolo di conseguenza. Lasciamo stare, veramente. Ma non posso più parlare. Perché non posso più parlare? Sei per te. E quando parliamo? Ne parliamo più tardi. Ma che più tardi? Ma parliamo nemmo. C'è la galleria. Non ne posso parlare. Però adesso entro in galleria. La galleria? Sì. Che c'è? Vabbè ci sentiamo dopo. Ok? Un bacio e tante cose. Che ci sentiamo più tardi ti richiamo. Ciao. Un bacione. Ciao, ciao, ciao. Ah? La presentazione? No. Non c'è rumore. Vengo a prenderti alle sette e mezza. Non farmi aspettare. Si. No, non ci reselli. Non ci reselli queremos più tardi. E? Non ti farmi andare molto a questo grado? Ai你可以ums software, Non ti farmi più tardi? Non ti farmi accounts.